rieccomi ciao a tutti vi giro il video il primo video primo round di diciamo di abbigliamento degli sconti allora già stavo girando il video ma sono stata interrotta perciò ho dovuto cancellare e riprendere tutto allora oggi come vi ho anticipato nel precedente video sono passata da terra nuova e mi servivano delle cose diciamo basiche perché io ho visto la mezza parte basica allora ho trovato il cosiddetto giacca a vento il piumino che cercavo veramente mi serviva urgentemente mi è costato anche poco ma quello ve lo faccio vedere all'ultimo allora ho preso intanto un maglione vestito che era in offerta c'erano begli sconti 50 70 però diciamo che i prezzi partivano un po altini perché questo maglione vestito qui c'è scritto pullover che per me è un grigio antracite scuro invece qui nel cartellino c'è scritto nero boh anche la commessa diceva che era grigio comunque ai tempi costava prezzo normale 25 99 26 euro mentre ora scontato special price a 19 euro 99 20 euro comunque è un bel tessuto è di lana e io questi questi capi mi adoperò sempre perché metto i leggings e mi sembra che ha messo un vestito e mi piacciono un sacco e la xs era tanto che ne indossavo la xs forse perché sono belli over perciò caldano bene ora non so hanno tolto i manichini quando me li ha sistemati nella cassa se non ve lo faccio vedere bene non si non c'entra neanche nell'inquadratura comunque è bello morbido poi ho preso un leggings che in offerta ce n'erano due due venivano 19 99 però siccome ho preso anche cose per mio marito già la cifra mi si è alzata un po per me perciò ne ho presi solo un paio questi qua in file neri e la taglia ml non c'era la taglia più grande era questa ma mi stanno bene e poi sono anche elasticizzati questi sono neri e però solo un paio mi sono venuti a costare 12 euro un po se avevo te zenis vicino ci andavo che sono bene poi ho preso due cose mio marito io mi ero preso un maglione a collo alto però poi lasciato perdere perché poi ho preso queste cose niente ho preso un maglione rasato a mio marito perché non ne ha dei maglioni nuovi in questo anno non li ho comprati anche per uscire vabbè per uscire ora non si può uscire ma anche diciamo il sabato per andare dal mio suo auxilio non lo so gliel'ho preso anche un bel colore a righe e questo mi è costato 10 euro 9 e 99 la taglia m anche se non è molto diciamo pesante non è importante perché lui utilizza i maglioni a dolcevito i lupetti sotto questo 10 euro dove lo metto e poi l'ho preso anche dei giri e li calzi non bene me li ho presi neri e la taglia 44 questi qua skinny lui è magrissimo credo che si ci entreranno questi costavano 8 euro manca a farli veramente che poi ci sono cose da terra nuova che costano tanto e cose che magari sono veramente diciamo convenienti questi qua sono neri questi per uscire un po' più nuovo non per andare al lavoro ecco per uscire diciamo non per andare al lavoro perché ce li ha e per lui ho preso questo passiamo il mio piumino non ha niente di particolare vi assicuro e mi pare che questo sia nero sembra un sacco della spazzatura comunque è sagomato ero incerta se prenderlo o no però mi sta bene sagomato diciamo non è largo largo comunque sto facendo la dieta con un anche con un maglioncino più leggero di sotto mi si allarga e la misura più grande era proprio questa la xl al cappuccio ed è bello bello pesante di dentro non è proprio di quello la perché c'era quelli con proprio quasi primaverili con pochi grammi io se devo uscire la mattina ho bisogno di questo indovinate quanto mi è venuta a costare solo 19 euro manca a farlo che da cinesi costano non so quanto allora io infatti poi mi sono invogliata anche per 20 euro 19,99 manca a farli va veramente non sono voluto prendere ricorsa e senza cinture che io li preferisco già solo con la zippo senza cinture cose che poi mi si arricciano e niente la mia spesa di abbigliamento per oggi finisce qui credo che farò qualche altro giro per qualche altro leggings qualche altro magari dei calzini non non so stante stante non lo so intanto mi sono presa queste cose proprio necessarie e ve le ho fatti vedere e niente spero che queste cosine vi siano piaciute io vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento a una cosa io pubblicherò no girerò i video penso a fine settimana quando potrò perché non so se dovrò tornare in presenza da domani a scuola perciò quando potrò li girerò magari fine settimana e le vi li proporò durante la settimana intanto già questi due video li ho girati questo e l'altro ve lo potete diciamo guardare per adesso vi saluto e poi ci vediamo presto ciao ciao